Nella lezione precedente abbiamo imparato come applicare dei riempimenti graduati, delle sfumature lineare ai nostri elementi. Tuttavia è possibile fare altrettanto non soltanto per i riempimenti ma anche per i tratti. Prendiamo ancora una volta il nostro logo che stiamo sviluppando e in questo caso vado a selezionare tutti gli elementi che lo compongono e richiamiamo nuovamente dal menu finestra la voce sfumatura per richiamare il pannello per applicare quindi delle sfumature lineari e faccio un semplice clic quindi per applicare effettivamente questa sfumatura. Ora la prima cosa che dobbiamo notare è che in questo caso il mio logo è composto da un certo numero di elementi in particolare c'è questo primo elemento, questo secondo, questo terzo e il quarto. Nell'istante in cui io li seleziono tutti e applico un riempimento graduato bene questo ovviamente si applica in maniera coerente ad ogni singolo elemento che compone quindi la mia selezione. Però non è questo il caso che voglio perché io vorrei nella fattispecie che il mio riempimento graduato si sviluppi dall'inizio alla fine del mio logo come se fosse un unico elemento grafico e non diciamo singolarmente per magari ogni lettera. Per fare questo sfruttiamo la possibilità da parte di Illustrator di definire quelli che vengono chiamati tracciati composti. In pratica cosa faccio? Vado a selezionare tutti i miei elementi e dal menu oggetto sceglierò tracciato composto crea. Così facendo immaginate che questi tracciati indipendenti tra di loro vengono visti e considerati e trattati da Illustrator come se fossero un unico tracciato un unico oggetto come se fosse una singola primitiva grafica. In questa maniera potete infatti osservare che quindi la mia sfumatura di colore viene dipanata e sviluppata esattamente come se questo fosse veramente un unico elemento e questa è davvero la cosa che volevo. Bene andiamo a definire quindi la nostra sfumatura e caratterizziamola con un po' di colore. In questo caso vado a scegliere quindi colore RGB e al posto del bianco scegliamo magari una tinta di rosso così come sto facendo adesso. Ok e in questo caso vado a prendere ancora una volta lo strumento sfumatura e semplicemente con un trascinamento dal basso verso l'alto vado istantaneamente a definire che il riempimento si sviluppa quindi in verticale. Vedete che possiamo fare questa cosa con grandissima libertà. Posso prendere per esempio senza selezionare lo strumento di controllo della mia sfumatura posso anche tirare istantaneamente verso il basso n volte al fine di controllare al meglio la mia sfumatura esattamente come la voglio. Diciamo che magari così potrebbe andare bene. Ok facciamo una deselezione. Ora la cosa estremamente interessante è proprio questa. Osservate la misura in cui io seleziono quindi la mia grafica a cui ho applicato questa sfumatura lineare. Vedete che anche qua abbiamo la possibilità di definire se questo questo riempimento quindi questa sfumatura lineare sia applicata a riempimento oppure al suo tratto. Se io quindi adesso seleziono tratto e faccio un click quindi sul riempimento sfumato ecco che quindi anche il tratto stesso subirà esattamente lo stesso tipo di riempimento. In questo caso non ho ahimè diciamo la possibilità di controllare attraverso lo strumento sfumatura la direzione in cui applicare il riempimento graduato al tratto ma il controllo in questo caso del suo sviluppo può avvenire esclusivamente attraverso l'utilizzo di questo controllo. In particolare in questo caso sceglierò per esempio di far sì che il riempimento graduato dal nero verso il rosso vada quindi dall'alto verso il basso e quindi a 90 gradi così come sto facendo adesso per fare quindi un riempimento graduato opposto diciamo uguale ma opposto a quello che ho fatto invece alle aree di riempimento del mio logo al fine di ottenere questo tipo di risultato. Il pannello sfumatura tuttavia ci permette ulteriormente di controllare come la mia sfumatura di colore si sviluppa applicata su un tracciato. Osservate in questo caso questa semplice forma che non è altro che una sorta di stella con le punte arrotondate, riempimento bianco e tratto nero. Bene in questo momento vado ad applicare come ho fatto precedentemente una sfumatura limitatamente al suo tracciato di contorno e questo è il risultato che ottengo che è quello che mi aspettavo. Tuttavia posso osservare la presenza di tre pulsanti che mi permettono di attivare rispettivamente tre modalità con cui la sfumatura viene applicata su un tracciato. In questo momento la prima è quella che abbiamo utilizzato fino adesso che mi permette proprio di far sì che la sfumatura si applichi uniformemente lungo tutta l'estensione dell'ingombro quindi della mia forma. Ma la seconda ancora più interessante semplicemente premendola mi permette di far sì che la sfumatura di colore letteralmente segue l'andamento e il percorso del mio tracciato lungo tutta la sua estensione. Quindi in questo caso dal nero al bianco. Questa possibilità è davvero di un'utilità impagabile soprattutto quando magari abbiamo necessità di rappresentare proprio dei tratti di un certo spessore che abbiano una sfumatura di colore. Mi viene in mente per esempio l'utilizzo di frecce sfumate nell'ambito di infografica per esempio. In questo caso vado a prendere per esempio il mio pennino, faccio un semplice tracciato così come lo state vedendo adesso e potete osservare che così facendo io ho la possibilità di far sì che questo tracciato abbia esattamente questo andamento sfumato. Vedremo oltre modo nella lezione successiva la possibilità da parte nostra per quanto concerne le tracce di applicare per esempio anche automaticamente delle punte di frecce di cui possiamo definire naturalmente anche la grandezza e viene da sé che in questa maniera ho la possibilità di realizzare molto dinamicamente e molto semplicemente delle punte di frecce che mi permettono di rappresentare per esempio dei dati, delle informazioni eccetera con una flessibilità che altrimenti non sarebbe facilmente raggiungibile. Ma oltre a questo ancora più interessante è anche la possibilità da parte mia di applicare e questa è la terza possibilità il mio riempimento sfumato non lungo l'estensione del percorso del bracciato ma rispetto al suo spessore. Nel momento in cui faccio clic possiamo vedere esattamente che cosa si intende. In questo caso in relazione allo spessore del mio tratto io posso far sì che la sfumatura di colore, ve lo ingrandisco per capire maggiormente cosa intendo, si applichi come vedete lungo lo spessore del tratto non lungo il suo sviluppo e la sua estensione. Anche questo naturalmente è una possibilità che apre un ventaglio di creatività veramente ampio. Banalmente vogliamo dare un effetto di neon al nostro tracciato, diamogli per esempio in questo caso un colore rosso iniziale altrettanto un colore rosso finale e aggiungiamo magari su un punto intermedio una tinta di bianco per esempio ed ecco fatto quindi molto rapidamente questo effetto di neon che posso utile ovviamente nel caso affinare in maniera davvero molto semplice.